Salve a tutti, continuano le nostre storie del monastero di Santa Chiara e questa volta voglio raccontarvi una leggenda, quella del fantasma della regina Sancia, moglie forse ricorderete di re Roberto il Saggio, che era stato re di Napoli e che aveva deciso di costruire la Basilica di Santa Chiara. Dopo tanti anni di regno il Saggio re Roberto alla fine morì. Sua moglie, la regina Sancia, era molto molto triste e per la disperazione decise di farsi monaca e di andare a chiudersi in un convento per non uscirne mai più. La regina però era così disperata che non riuscì a resistere. Poco tempo dopo morì anche lei di crepacuore. La regina Sancia fu seppellita nella chiesa di Santa Chiara, quella che il marito aveva fatto costruire per amor suo, ma già dal giorno in cui venne sepolta nella chiesa iniziarono a succedere strane cose. Si racconta che nelle notti più oscure, quelle in cui non si vede la luna, il fantasma della regina si aggiri ancora nella chiesa e che si metta a passeggiare lentamente nel chiostro. Il fantasma è vestito con un lungo abito bianco che gli arriva fino ai piedi e cammina con le mani giunte come stesse pregando. Il suo viso è triste, disperato, perché pensa ancora al re Roberto, il suo amore per sempre perduto. Guai a disturbare il fantasma della regina Sancia. Chiunque osasse, cadrebbe morto stecchito all'istante. Alla prossima, ciao a tutti!